Chi ha subito una condanna fino a 4 anni di reclusione può evitare di scontarla in carcere e ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale. Con questa misura alternativa la pena sarà espiata fuori dal carcere come se fosse un periodo di prova e a seguito di questo percorso, se valutato positivamente, il condannato avrà pagato il suo conto con la giustizia. Però prima di vedere in concreto come funziona, clicca sul like, condividi questo video perché così mi aiuterai a capire se questo tipo di contenuti può piacere e continuerò a farne altri. L'affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione. È alternativa perché il condannato potrà espiare all'esterno delle mura carcerare la pena che gli è stata applicata. Si tratta di una misura ispirata alla rieducazione del reo in presenza di condizioni favorevole e di una pena detentiva ad espiare sotto i quattro anni. Essendo una misura alternativa finalizzata a favorire la rieducazione del colpevole, quando il tribunale accoglie la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale applicherà delle prescrizioni che il condannato dovrà rispettare. In buona sostanza l'affidato in prova sarà formalmente libero, però dovrà rispettare delle regole che il tribunale di sorveglianza gli avrà imposto. Queste regole, oltre a guardare finalisticamente alla rieducazione del colpevole, sono anche utili ad evitare una possibile condotta recidivante. E infatti il condannato in pratica sarà intanto tenuto ad avere rapporti costanti con il servizio sociale, dovrà mantenere la propria abitazione nel luogo che avrà scelto e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati alla UEPE e al magistrato di sorveglianza. Potrà poi essere obbligato a non uscire dalla propria abitazione in determinate fasce orarie, tendenzialmente nelle ore serali e notturne, non potrà detenere armi o altri oggetti atti ad offendere, dovrà seguire un programma indicato dal servizio sociale concordato con UEPE, dovrà poi astenirsi dal tenere contatti con frequentazioni, soggetti pregiudicati, assentori di stupefacenti. Per il resto, comunque, potrà condurre la sua vita come se fosse formalmente libero. L'affidamento in prova è precluso quando la condanna, anche se inferiore a 4 anni, è intervenuta per i cosiddetti reati ostativi. I reati ostativi sono reati ritenuti dall'ordinamento particolarmente allarmanti e sono elencati dal 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Questi ultimi impediscono l'accesso alle misure alternative alla detenzione, compreso l'affidamento in prova al servizio sociale. A titolo di esempio, sono considerati reati per i quali non si può ottenere l'affidamento in prova l'associazione per delinquere di stampo mafioso, anche con riferimento alle mafie straniere, furto in abitazione, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, prostituzione minorile. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere sospeso, annullato o revocato a seconda dei casi. L'annullamento, la revoca o la sospensione sono tutte misure applicate quando ci siano delle ragioni sopra avvenute incompatibili con l'affidamento in prova. Vediamole una per volta. La sospensione dell'affidamento in prova è disposta quando chi è sottoposto a questa misura assume dei comportamenti in violazione delle prescrizioni. In questo caso il magistrato di sorveglianza ne dà comunicazione al tribunale di sorveglianza e in attesa della pronuncia di quest'ultimo può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'affidamento in prova ordinando l'accompagnamento in carcere del condannato. In questo caso il tribunale dovrà entro 30 giorni dalla sospensione decidere se ci sono i presupposti per la revoca oppure no e se non deciderà entro 30 giorni la sospensione perde efficacia. Qualora riterrà che la sospensione era fondata emetterà la revoca dell'affidamento in prova. La revoca comporta la permanenza del condannato in carcere e potrebbe addirittura comportare che il periodo trascorso in affidamento in prova non venga computato ai fini dell'espiazione della pena. Per comprenderci meglio, se dopo un anno di affidamento in prova commetto una violazione e l'affidamento viene revocato, quell'anno che ho trascorso in affidamento sarà come se non fosse mai stato espiato. L'affidamento in prova può anche essere annullato. Ciò accade quando il condannato subisce una ulteriore condanna successiva che determina un residuo di pena superiore a quella consentita per la misura, quindi oltre i quattro anni. In questo caso il PM informerà il magistrato di sorveglianza e farà le proprie richieste. A questo punto il magistrato di sorveglianza, se effettivamente il cumulo supera i quattro anni, disporrà l'accompagnamento del condannato in carcere. Se l'esito dell'affidamento in prova sarà stato positivo, se cioè la valutazione della condotta tenuta dal condannato avrà consentito di ritenerlo rieducato, la pena sarà estinta e con essa ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue. In alcuni casi particolari, cioè quando il condannato si trova in condizioni economiche disagiate, il Tribunale di sorveglianza però potrà dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che è stata eventualmente applicata. Viceversa, se l'esito dell'affidamento in prova dovesse essere risultato negativo, il Tribunale determinerà quanto ancora resta da espiare e la pena sarà eseguita in carcere. In questo video hai tutto il necessario per comprendere se puoi essere ammesso o meno all'affidamento in prova, però se hai ancora bisogno di informazioni o vuoi farti assistere da me, contattami scrivendomi in privato o commentando il video.